Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi siamo su Terminus, un gioco che purtroppo mi è sfuggito il marzo di quest'anno, quando è uscito, il 21 marzo, ecco per la precisione credo, 13,59€ il costo ed è una sorta di, chiamiamolo Project Zomboid a turni, è davvero intrigante ed è un peccato che me lo sia perso quando è uscito, ma comunque c'è tempo per rimediare. Siamo in Early Access quindi il gioco viene aggiornato costantemente, non c'è l'italiano, solo inglese e coreano, però c'è la selezione dei gradi perché è molto importante anche quello, la risoluzione, insomma i frame e iniziamo la partita. La grafica è una pixel grafica come quella che ricorda un pochino Project Zomboid. Possiamo scegliere tre professioni al momento con possibilità poi di sbloccarla. Le sblocchiamo sopravvivendo a uno di questi lavori, io inizio con questo che ci dà comunque una certa, il perk di Bullseye che non so cosa faccia ma credo sia uno in grado di vedere di più le cose, i dettagli. Abbiamo l'accuratezza di livello 1 con i fucili, insomma, dicevo i cannoni, le pistole, le armi, insomma, livello 2 più 100, livello 350. Abbiamo abilità forza 0, salute 1, osservazione 4, combattimento 4, girita 1, destra 0, extra point 3. Conosce le location di tutte le stazioni di polizia, quello che sappiamo è questo. Partendo invece come soldato abbiamo melee attack, non abbiamo informazioni, mentre invece facendo il pompiere abbiamo la conoscenza di tutte le stazioni dei pompieri. Insomma, iniziamo. Possiamo aumentare, in questo caso metto anche un punto di forza. Adesso non so quanti punti ho disponibili. Però io metterei uno in più in combat. Abbiamo due punti, puoi scegliere differenti game mode. Abbiamo la default mode, questa è la gioco normale, la comandata ai giocatori. Le feature, l'out of stock, 90% dei rifornimenti, posti e tutto. No, crowd, frozen zombies. No, dai, iniziamolo normale. Alcohol dislike. Ah, qua abbiamo le nostre preferenze. Quindi praticamente possiamo mettere, se siamo dipendenti, l'aggiungere una dipendenza ci dà più punti da mettere. Però abbiamo la necessità di bere, fumare o bere caffè, insomma. Va bene. Qua scegliamo il nostro omino. Facciamo random, finché non ne troviamo uno che ci piace. Facciamolo così, dai. Va bene, andiamo. Il gioco è a turni. Non è un concetto nuovo, ma per me è un concetto nuovo abbinato a un gioco di questo tipo. A un gioco zombie, non un classico fantasy. Quasi diciamo che questa meccanica del movimento a turni è abbastanza influenzato da gameplay in tempo reale. Gli infetti, gli zombie infetti stanno attaccando le persone. La tua casa è ancora salva, ma l'elettricità e l'acqua sono state tagliate e ci sono pochi rifornimenti rimasti. Nella tua ultima comunicazione hai imparato che le persone sopravvissute sono state raccolte a Terminus. Arriva al Terminus per sopravvivere. Se ottieni una radio e ascolti la trasmissione, segui i binari del treno, potrai trovare Terminus. Questa è una citazione a The Walking Dead, dove c'era appunto Terminus, dove si doveva raggiungere questo Terminus, l'ultimo baluardo dell'umanità, che poi si è rivelato essere un po' altro, insomma, ma non voglio spoilerarvi. Il gioco ha quattro principali interfacce. L'information panel in alto, la charter panel, questa, l'action panel e il menu panel. E puoi guardare l'information panel qua in alto, dove possiamo vedere la temperatura, la location, le informazioni attuali. Qua invece abbiamo il basic game guide, puoi selezionare le condizioni del personaggio, i dettagli, l'esperienza, tutto quello che passando sopra di esse ti spiega, diciamo, quello che è, tutto quello che sono il calore, l'energia, il morale, la sazietà del personaggio. Abbiamo i dettagli, abbiamo l'esperienza, addirittura la temperatura che percepisce lui e non dell'ambiente, insomma. L'attacco, la difesa, abbiamo l'esperienza, l'arma che possediamo, le stats e le nostre preferite. Non abbiamo nessun tipo di dipendenza. Andando avanti abbiamo, oh bello questo, praticamente qua possiamo passare il turno girando la manopola. Ci sono bottoni per dare comandi al personaggio nell'action panel in basso a sinistra, a destra. Quando inizi il gioco ci sono solo 5 bottoni nuovi, attacca, cambia location, smonta, crafta e riposa. Alcune professioni hanno un bottone addizionale riguardo appunto a quella professione. va bene. Basic game, abbiamo mappa, help e menu. Ok. Finalmente, ora siamo al nostro personaggio, hit point e action point. Praticamente abbiamo un numero di azioni limitate per ogni azione, per ogni movimento, insomma, per ogni turno. Ecco. Quello che noi vediamo attraverso il, qua aperto col tasto W, apriamo la mappa e vediamo dove sono le, noi siamo qua al momento. Quindi tecnicamente per raggiungere la poli station dovremmo andare, uscire, andare sulla destra, prendere la strada principale e continuare a seguirla fino a, eh chi lo sa. Vabbè, intanto iniziamo a muoverci, vediamo un po', eh, allora, a right click su un tile per muoverlo oppure per ritirare la move. Ok, no, clicchiamo qua, siamo arrivati qui, eh, posso premere, ok, e vediamo quello che c'è per terra, quindi ci apre questo menu, raccogliamo la legna, ok. Dopodiché vedete che noi vediamo solo quello che c'è oltre le finestre, quindi in questo caso qua abbiamo una finestra, posso cliccare qui, un action point, lo vado a consumare ogni volta, faccio search, fornici, lo spendo due punti abilità, action point, trovo una antibiotici, una banana e balle varie, insomma abbiamo recuperato tutto, una banana importante. Possiamo provare ad andare qui, consumiamo un bel po' di punti, andiamo a ispezionare con due action point e recuperiamo un libro e una guida. Il libro, ci perde quattro punti action per, no, raccoglie informazioni su una, no, ma il libro invece, ah ok, leggi il libro, acquisisce la Survival Keepsake Collector, numero di pagine 314, percentuale letto, ok. Possiamo spendere i punti, 10, per leggere il 90% del libro, cosa che facciamo immediatamente. Abbiamo, no, abbiamo letto veramente poche pagine, in questo caso abbiamo finito i punti, quindi facciamo il giro e a questo punto passa il turno agli zombie. Ovviamente se gli zombie ci hanno sentito, al loro turno inizieranno a cercare di raggiungerci. Abbiamo letto poche pagine, adesso proviamo a leggerne action point to use. Eh, niente, passiamo il turno leggendo un libro, facciamo il turno così oggi. 10 punti, continuiamo a leggerlo, insomma, così voglio vedere anche questa meccanica delle pagine lette. Dobbiamo passare un bel po' di turni però, eh. Intanto vediamo che ogni turno ci porta via un'ora, un'ora di tempo, che non è, non è poco, eh, della verità. Però ci dà anche un bonus perché stiamo continuamente leggendo. Comunque intanto i zombie si muovono e leggiamo, continuiamo. Ci mancano poche pagine, credo, 104. Ok, dai, ancora un turno e finiamo di leggerlo. Lo facciamo adesso perché non c'è nessuno, quindi leggiamoci il libro. Ok. Abbiamo ottenuto la Keepsake Collector, che non so cosa voglio dire, eh. Eh, possiamo andare a leggere l'esperienza. No, la Keepsake, non so cosa sia. Condition, Keepsake. Ok. Ah, ok. Una chance di ottenere un oggetto quando uccidiamo uno zombie. Figo. Adesso voglio capire se la pistola l'abbiamo equipaggiato o no. Possiamo attaccare dalla distanza, ma però facciamo danno. Ok. Can't do that. Abbiamo finito tutto, ok. Facciamo pausa adesso ancora. Qua c'è anche il turno degli altri sopravvissuti, quindi premeteci anche altro. Comunque. Clicchiamo sulla porta, apriamo la porta e andiamo. Cazzo, ci ha visto. Right click sullo zombie per attaccare. Alternativamente puoi attivare l'attack mode premendo l'attacco no. Voglio spostarmi il più possibile. Voglio tornare anche qua perché voglio dare un'occhiata qui. Cerchiamo qua dentro cosa c'è. Sweater. Lo sweater non so cosa sia, ma clothing. Non... Vorrei capire come usarlo, ma non credo si possa ripaggiare. No, ce l'ha messo già probabilmente in automatico, comunque. Qua abbiamo un'altra furniture. Diamo un'occhiata all'interno. Non abbiamo abbastanza cose. Adesso lo zombie sicuramente non lo vediamo più. Adesso lo vediamo con la coda dell'occhio. Il prossimo turno probabilmente tenterà di buttare giù la porta. Quindi adesso andiamo di qua. Abbiamo recuperato anche un po' di roba da mangiare. E qua vedete nell'ora il tempo che resta perché queste diventino macce. Delle medicine. Possiamo muoverci di qua. Possiamo anche cliccare, tra l'altro, sulla finestra. Possiamo aprirla e chiudere. O coprirla. Però abbiamo bisogno di qualcosa perché si possono andare anche a coprire le finestre. Comunque, io adesso passo il turno perché mi mancano 4 punti, 2 punti e punto 4. E stanno iniziando. Ok. Qua entro. No, io lo aspetto. Lo aspetto qui. Così guadagno anche qualche punto. Ok, è arrivato. Posso tecnicamente fare attack. Clicco su di lui e posso scegliere dove colpirlo. No weapon selected. Ok. Distanza dello zombie. Possiamo colpirlo. 9.5. Hit rate. 42. Proviamo. Mancato. Colpito. Ok. Però abbiamo fatto un gran casino. Purtroppo. Quindi adesso vediamo quanti punti abbiamo. 17. Posso uscire. Vediamo se c'è qualcosa sul terreno. Rug. Per coprire le finestre e dei medicinali. Ok. Possiamo iniziare ad andarcene. Andiamo con W. Doppia. Unidentified place. Ok. Proviamo ad andare in giù. Ah, dobbiamo andare qua per uscire dalla location. Ok. Unidentified place. Move. Ok. Abbiamo scoperto la casa. Nella casa tutti gli item possono essere trovati in vasta probabilità. Ok. È un po' brutta sta cosa che ci mette queste... Cioè non è un movimento continuo ma fatto a mappe. Però noi siamo saltati praticamente qui adesso. Quindi non camminiamo in tempo reale ovunque ma è fatto tutto a mappe. Quindi qua è una mappa della casa. Adesso siamo già sotto. dove avevamo il punto di domanda. Non lo so. Adesso mi metto in modalità attacco e gli sparo. Non ho abbastanza HP. Mannaggia. Eh, sono cazzi. Sono cazzi amari. Perché adesso la linea attacca lui. Aia. Però non mi abbia... fatto delle ferite mortali. Perché non sarebbe bello. Change location. Move to the house. Ok, adesso diamo un'occhiata anche all'altro perché comunque deve essere... Abbiamo un 48%, 63%. Gli sparo il petto. Gli sparo la testa. Ok, è andato. Change weapon. Previous weapon. Abbiamo anche la plank, la lascia di legno. Adesso voglio dare un'occhiata al crafting. Vedete che qua abbiamo tutte le ricette di crafting che conosciamo. Quindi è una cosa un po' più immediata rispetto a un project zomboid, ma non è, diciamo, stessa cosa, insomma. Ok. Io direi di provare ad andarmene... Vabbè, intanto posso provare a sparargli da lontano. 31%. 31%. Ho finito i fonti. No. Ancora ho finito le munizioni. No munition. Ho finito le munizioni. Porca caccia la merda. Allora. Ma non posso sparargli? No. Non c'è modo di ricaricare. Fatemi un po' vedere. Pistola. No. Da buon poliziotto ho finito i proiettili. Infatti non ne ho più. Posso cambiare l'arma. Voglio mettere un'altra arma. No. Vediamo se ho una plank. Ok. Posso usarla come arma. Può essere rinforzato come porte. Può essere usato come arma singola. Devo capire adesso come usarla. Quindi devo andare probabilmente corpo a corpo. Per andare lì muovo di due punti. Posso provare ad attaccarlo. Se gli clicco sopra posso attaccarlo con l'ascia di legno. L'ascia di legno, sì. L'asse di legno. No weapon. Se ne leggo questo. Ok. Ma dai. Così. Buono. Dai. Funziona anche silenziosamente. Ok. Accogli per terra. Cosa hai raccolto? Ok. Materiali. Accogli tutto. Va bene. Andiamo di qua. Ok. Fammi attaccare. No weapon. No. No. Ho rotto l'asse. No. Sono morto praticamente. Vabbò. Andiamo avanti. Adesso scapperemo. Ma guarda. È nato vita. Vabbè. Ce ne andiamo. Ne richiede 8 ap per andare via. Va bene. Tanto lui fa un passo alla volta quindi riusciamo ad andarcene sì. 8 punti per muoverci. Abbiamo scoperto la Fire Station. Potrai trovare dei tool nella Fire Station. Ok. Perfetto. Quindi questa penso sia una porta. Vediamo. Dovremmo aver finito proprio tutti i punti ma no. Vediamo cosa c'è qui. No. Andiamo qua. Passo il turno. Anche se è un errore fare il turno, il passaggio del turno quando siamo lì. Va bene. Allora una porta chiusa o una finestra per essere forzata con un piede di porco o un'ascia. Se non ce l'hai poi romperla usando. Ah ok. Vedete qua si può colpire. Ma non posso. Non ho niente per colpirla. Quindi puppa. Continuo a perdere i punti ma non trovo niente. Non capisco neanche perché probabilmente sta per sorgere il sole. No. Sta andando giù il sole più che altro. Non posso farlo. Vabbè. Passo il turno. Tanto siamo in silenzio qui. Oh. Hanno rotto la porta. Quindi c'è uno. C'è qualcosa che arriva da lì. E probabilmente è uno zombie. Va bene. Passo il turno. Eh proviamo ad entrare dalla finestra. Si riesce. Eh no. Non ho niente con cui colpirla. Ho buttato proprio tutti i proiettili in modo tremendamente stupido. Abbiamo low energy. Quindi possiamo mangiare una banana. E una carota. sazietà l'abbiamo riempita. Il calore non... Il problema non sussiste. Ah. Le porte del garage possono essere battute solo da... Allora. Lo zombie tecnicamente qui è entrato. Quindi io adesso temporeggio. Così recupero un po' di punti azione. E... E siamo mezzanotte adesso. Quindi passo il turno ancora. Così guadagno ulteriori punti. E andiamo all'interno. C'è un asse di legno lì per terra. Ok. Apro la finestra e dentro. Prendo l'asse di legno. C'è qualcosa qui. Lo zombie è fuori vista. Quando attacchi uno zombie che non è in vista, lo zombie... Gli HP dello zombie non sono mostrati. Ah. So che c'è qualcuno lì ma non lo sto vedendo. Quindi vabbè. Provo ad attaccarlo. Con l'asse di legno. Mannaggia. Ce lo sto mancando in ogni possibilità. L'ho preso. Ah. Ho rotto... Ho rotto il... Ok. Posso prendere un'accetta. Tutto prendo. Posso provare ad attaccarlo. Get direction. Prima di guidare guarda la strada. Ok. Hai guardato la direzione. Hai scoperto un percorso che porta a una location. Ok. Dobbiamo passare il turno però. Perché non abbiamo punti. Quindi questa qua la guidiamo non in prima persona ovviamente. Fammi un po' vedere se c'è uno zombie qua. Non lo vedo ma... Penso di poter... Eccolo qui. Lo attacchiamo con... Questa che fa più danno. Mannaggia. Ma... Ok. L'avevamo steso. Posso prendere questo. No. Drive. Ah. Lo ho un fuel. Garage door is closed. Allora. Fuel. Repair. Fuel. Ok. Posso fargli il fuel. Vediamo un po' se ho del fuel addosso. Fuel. Eh. Posso farti il fuel, no? Craft. No. Rest. No. Ma da dov'è che ti faccio benzina, scusa? Ti faccio benzina così. Te la rimetto qui, no? Tutte e due. Fuel 2, ok. La garage door è chiusa. Ok. Andiamo ad aprirla. Ah, c'è ancora uno zombie qui. Va bene. Mannaggia, ho finto i colpi. Dai, devo abbattere anche questo, ok? La lascia è rotta. Ok. Posso colpirla ancora, no? Apri la porta. Door è closed. Open. Drive. E possiamo andare... Ah, non c'è la route. Cioè praticamente possiamo andare solo nella route che abbiamo vicino. Unidentified place, andiamo qua. Drive. Usando un car fuel. Hai scoperto casa. In una casa tutti gli item possono essere trovati con una bassa probabilità. Questo l'abbiamo già letto. Quindi, passo il turno perché non abbiamo più punti azione. Non posso farlo. Non posso farlo. Ok. Ok. Ah, ma aspetta, aspetta, aspetta. È comparsa una nuova luce. A parte che sta diventando giorno. Però c'è anche questo simbolino qui. Cavoli, potrei usarlo prima perché ho recuperato anche una torcia. Quindi, bello. Però, bello fino a un certo punto perché abbiamo uno zombie che posso colpire con quest'ascia qua. L'ascia qui. Si rompe molto facilmente. Ok, è andato. Fammi recuperare roba da qua. Vediamo cosa c'è per terra. Materiali, medicinali, le bende. E qui? Andiamo. Police officer. No, sono io police officer. No, non ho più punti. Me ne servono almeno 8 per andare via. Quindi, sono le 6 della mattina. Adesso andiamo via. Dai. No, no. 12 punti. Riposo ancora allora. Riposo, in modo di dire. Riposo. Avremo bisogno di riposare presto perché. Outside the building. 12 punti. E ci muoviamo. Hai scoperto la ferrovia. La ferrovia non è funzionante ma è connessa a Terminus. Ah, bene. Qua abbiamo la fence. E qua siamo praticamente morti perché. Ok, no. Fortunatamente l'abbiamo battuto subito. Vediamo se riusciamo a scavalcare questa recensione. No. Consummi un extra quando scavalchi. I can do that. Perché? 10 AP. Ok. Niente, dai. Aspetta. Aspettiamo un turno. Ah, ma mi pieno di zombie di là. Riposiamo ancora. Ok. 15. 15. Andiamo di là. E poi possiamo seguire per andare direttamente a Terminus. M. Scusate W. Scusate W per la mappa. Siamo qui. Alla Railroad. Possiamo andare verso Terminus. Seguendo la Railroad. Quindi ci andiamo subito. Vediamo quanto ci costa. 8 punti. Quindi niente. Seguire la ferrovia tecnicamente porta a Terminus. Quindi. Unidentified player. Hai scoperto Railroad. Ok. Continuiamo. Andiamo avanti. Sperando che questo è sotto attacco. Andiamo di là. No. Non si può più. Passa il turno. Dovremmo passare due turni almeno prima di... Aia. Siamo morti. Eh sì. Va giocato. Va ragionato. È molto più ragionato per quanto sia anche Project Zone Void. Va bene. Niente. Try again. Niente. Allora. Terminus non è assolutamente male. È un Early Access che guardando dalla versione 0.9.2 Credo comunque stia andando bene come sviluppo. È un roguelike molto interessante. Pensate appunto a uno Zomboid a turni. Il gioco è interessante. Ovvio. Non è un capolavoro. Ma può essere assolutamente intrigante. È preso per quello che è. È preso diciamo molto più in modo ragionato. Rispetto a come l'ho preso io. Il prezzo è ottimo. 13 euro. Comunque meno di 14 euro. Non è male. È un Early Access. Poi non lo resterà per sempre però. Il gioco sembra assolutamente ottimo. Questo è il parere mio. Poi fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Qua c'è una serie di guide sul smontare, il craftare, il pattern d'attacco. Sembra anche piuttosto profondo perché ci sono case fortificate, storia di elettronica, la fire station, la merceria, la drogheria, la libreria, la farmacia, la poli station, la rail road. E terminus alla fine che qui arriviamo, vinciamo la partita e sblocchiamo altre classi con cui giocare. Come dicevo ci sono varie modalità. Al momento non abbiamo giocato con la base. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao. Ciao.